la lead generation quindi siamo partiti ecco già ci conosciamo quindi non sto di nuovo a raccontare cosa faccio cosa non faccio è un tema che affronto la generation in maniera quasi quotidiana con i clienti sapete che io nasco dal marketing cartaceo dal marketing preistorico e poi mi presto al digitale e non sono un tecnico ma mi occupo soprattutto di strategia però questa è la domanda il grande tema che sento oggi no quindi molti clienti non si stanno ancora accorgendo non c'è la cultura sul tema digital sul social media marketing la domanda è sempre quella ma fatturare come fatturo di più come trovo più clienti e quindi io partirei proprio con questa slide che siccome seguo molto spesso le reti di vendita di agenti soprattutto quindi reti esterne la forza vendita in attesa è in attesa di avere contatti caldi perché le telefonate a freddo perché prendere la macchina e girare bussare le porte è sempre più difficile per tutte le ragioni che sappiamo quindi la lead generation attività di marketing aiuta i nostri venditori a chiudere più facilmente è un po l'anello mancante insieme al famoso tema dell'inbound marketing inbound marketing e lead generation sono i due grandi filoni oggi ci permettono di fare che cosa ecco intanto di far capire l'incisività del marketing purtroppo il marketing io ormai ci vivo da quasi quasi vent'anni che ci lavoro come dipendente come consulente è il mare amo voi del marketing sì siete gli artisti del brand diciamo che il marketing è un costo ma esattamente i ritorni del marketing quali sono no quindi sì siete interessati alla comunicazione siete creativi però alla fine i numeri i numeri come faccio a misurarli noi sappiamo che attraverso il web possiamo misurare molto di più le performance delle nostre campagne ma sappiamo che è anche una cultura no che stiamo creando con i clienti e la lead generation ci aiuta a fornire i numeri giusti no anche perché se non attiviamo delle campagne di lead generation è un po come un secchio pieno d'acqua ma con tanti fori che significa significa che sostanzialmente i clienti attivi tendono a perdersi alcuni purtroppo chiudono altri passano la concorrenza altri ci abbandonano punto e basta quindi noi dobbiamo costantemente riempire questo secchio secchio dei nostri clienti con dell'acqua nuova altrimenti rischiamo piano piano di rimanere senza ecco avendo questa ora trattare un tema come la lead generation ovviamente noi ci soffermeremo su due aspetti fase della cattura del lead facendo alcuni casi vedendo insieme alcune possibilità e la fase del nurturing non so se l'ho pronunciato bene cioè del nutrimento del lead ci sono quelle due aree dove sostanzialmente noi del marketing siamo molto 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 impegnati detto che fare una bella lead generation prevede che ci sia in azienda un qualcosa che si chiama crm minimo no minimo di crm crm sta per qualcuno lo sa assolutamente no crm vediamo se qualcuno mi risponde al volo sulla parola crm ok contest customer perfetto relationship management ok ottimo analisa bene quindi il crm non è semplicemente un software come potrebbe essere ovviamente 6 forse all dynamics li conosciamo no oppure quelli più aperti come come zoho eccetera si può fare crm anche con strumenti più semplici si può fare crm anche con un file excel esagero no la butto lì crm uno strumento per tracciare le relazioni con i clienti il crm lavora in acquisizione e infidelizzazione ovviamente noi parliamo anche di social crm ma fare lead generation senza avere un minimo di cultura di strumenti di crm ovviamente molto difficile perché poi non ho traccia di quello che sto facendo io ho iniziato con il crm adesso parto con una digressione una parentesi di mezz'ora e lì è finita tanti anni fa sapete forse che ho lavorato nel settore delle piastrelle quindi a shashuolo come si dice e mi sono occupato di implementare ormai 15 anni fa salesforce quindi ho iniziato a parlare di crm quando veramente era una cosa molto molto rara e avevamo l'integrazione di salesforce in tutti i processi aziendali nel marketing ovviamente nella vendita nella logistica e dopo magari farò un esempio anche di quel crm che è ancora estremamente funzionante però però torniamo sul percorso il tempo mi scappa cos'è un lead quindi magari una domanda banale però mettiamo un attimo questo tassellino chi è che mi definisce che cos'è un lead ecco di generation cos'è un lead vediamo se qualcuno mi scrive la risposta io tengo la conversazione aperta e così un po interagiamo anche se a distanza sarebbe bello essere in una bella aula ma ok lead vediamo chi è il più rapido siete tutti davanti a un panino lo so ero beccato è stato mangiando io appena finito di mangiare il mio panino l'ara sta scrivendo che ci diceva che il suo pane quotidiano quindi evidentemente per lei una definizione un po scontata ok adesso qualcuno sta scrivendo qualcuno no quindi possiamo definire il lead come una persona intanto che ha in qualche modo mostrato interesse verso di noi verso un prodotto verso un servizio e ha lasciato una serie di informazioni ad esempio quali email quale tipologia di azienda lavora il telefono quindi in teoria dico solo in teoria per essere un lead non basta lasciare la mia mail per essere aggiornato rispetto alla vostra meravigliosa newsletter quello un iscritto lo chiamiamo semplicemente scritto il lead ha già mostrato un minimo di interesse per lasciare qualche dato in più forma di contatto qualche dato in più significa che se mi prendo la briga di scrivere qualche elemento in più vuol dire che un minimo un minimo di interesse ce l'ho quindi partiamo da questo concetto per dire che famosissimo ormai l'avete sentito milioni di volte l'imbuto della vendita il cosiddetto funnel di vendita quindi le nostre campagne si basano su diversi livelli in cui l'imbuto ovviamente ampio grande davanti il grande imbuto dei lead che diventano magari opportunità prospect proposte concrete e ovviamente speriamo nuovi clienti la generazione di un imbuto ci permette di monitorare le varie fasi ci permette di fare anche il percorso del nutrimento l'imbuto ha un passaggio fondamentale che su cui discuteremo rapidamente la relazione tra marketing e vendite che deve essere estremamente funzionante operativa se riusciamo un'altra parte dell'imbuto è che il nostro cliente diventi addirittura un advocate quindi una referenza positiva quindi abbiamo detto che gli iscritti la prima parte potrebbero essere semplicemente persone che hanno lasciato l'email il lead ha compilato un form con più informazioni dopo vedremo un esempio l'altro passaggio è il marketing qualified lead quindi è il famoso lead che ha ricevuto una sequenza parola chiave di email ok questa sequenza di email hanno fatto sì che il prospect si scaldi quindi un contenuto che ha fatto capire che c'è un problema che questo problema può essere risolto e che noi possiamo fornire una soluzione a questo problema e magari nelle altre email abbiamo anche definito che noi possiamo essere una alternativa rispetto agli altri concorrenti per risolvere il problema quindi è chiaro che l'imbuto è stretto alla fine perché non pretendo che tutti i lead che si siano iscritti poi mi seguono fino alla fine ma è giusto perché noi vogliamo dare commerciali i nostri venditori dei contatti che siano profilati quindi gli scappati di casa i lead pochi interessati i lead che ci fanno perdere tempo all'interno dell'imbuto tendono ovviamente a scomparire qui c'è un discorso anche di discord di punteggio che diamo ai lead piano piano che avanzano nell'imbuto adesso non ci staremo in questo in questo webinar come i tempi ma c'è anche questo passaggio faccio un salto avanti quindi nel marketing quali file lead siamo ancora una fase dove ci siamo solo noi del marketing a gestire non stiamo parlando di vendita non stiamo vendendo direttamente stiamo scaldando il lead il passaggio successivo sarà sales accepted lead quindi è il cosiddetto routing quindi il lead all'interno del famoso software di crm o all'interno anche di un rudimentare file excel viene poi girato al venditore di zona che proseguirà nell'imbuto della vendita quindi il classico approccio commerciale la telefonata oppure un contatto mail per ovviamente fissare un appuntamento un appuntamento che speriamo speriamo ma ne siamo certi sarà più semplice perché non siamo uno sconosciuto non siamo completi sconosciuti abbiamo già fatto alcuni passaggi insieme con il lead quindi se il marketing è bravo genera ovviamente lead qualificati e quindi lo valuto su questo sui prospect possiamo usare questo termine sui lead caldi la vendita sarà ovviamente valutata e lì non si può scappare rispetto a i lead trasformati in clienti allora tema chiave sì ok io sono un decisore sono un buyer guarda ho proprio bisogno che qualcuno mi tempesti di mail e di telefonate guarda non faccio altro dalla mattina alla sera ho una telefonista ho una receptionist che assolutamente mi protegge l'ho pagata per non farmi disturbare da chi mi chiama e cerco di evitare di mandare la mia mail in giro è verissimo non siamo in un'epoca in cui cerchiamo di difendere la nostra privacy non vogliamo essere spammati quindi la domanda è fondamentale cioè perché dovrei lasciare i miei dati allora la risposta ce la dà ovviamente la creazione di un magnete ecco l'immagine del magnete ci rimanda ovviamente anche al famoso inbound magnete quindi attirare il cliente verso di noi cos'è un magnete è un incentivo gratuito che ha diverse forme attenzione in cambio all'iscrizione email telefono eccetera incentivo gratuito vedremo esempi di incentivi sicuramente ne fate tantissimi intanto vedo che il numero dei partecipanti è salito a 18 quindi molto bene ah noi non l'abbiamo detto giulia però verso insomma due meno dieci lasceremo lo spazio alle domande giusto più o meno domanda che è caduta nel vuoto no c'è 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 eccomi eccomi ok ci sarà il question time allora faccio un passo avanti se no perdiamo un po' il ritmo quindi ricordate le tre c del magnete che sono eccole qua coupon content e commerciale allora tre tipologie di magneti allora le vediamo tutte e tre con dei bellissimi screenshot da siti con cui abbiamo lavorato nel presente e nel passato ok quindi magneti io parto da quello forse più immediato il concetto di coupon il concetto di coupon ad esempio collegato a un codice sconto si può veicolare benissimo attraverso una campagna di facebook ads quindi qui vedete uno screenshot di un cliente che segue io lavoro molto anche con le porte e finestre con gli infissi è un'azienda molto brava di zona di Ravenna quindi che vende le finestre ok quindi in questo caso la sponsorizzata riguardava un vetro triplo al prezzo del vetro doppio ok comunque al di là dell'aspetto tecnico in questo caso tu puoi scaricare un codice portarlo nel negozio fisico in realtà c'è la possibilità anche dell'acquisto online per in questo caso negozio fisico e quindi vado col coupon che arriva da facebook ads e nel negozio vengo ovviamente registrato quindi parte il funnel il funnel parte attraverso un'offerta molto semplice quindi quella di uno sconto come lo veicolo soprattutto a facebook ads per farmi andare nel negozio fisico perché dico questo? perché poi sembra tutto che sia online, online, online in realtà no faccio una lead generation per portare le persone nel mio punto vendita non solo perché non ho un e-commerce e vendo finestre ma perché quello è il punto dove io inizio il mio funnel quindi incontro il cliente una volta, due volte, tre volte e magari concludo la vendita ok c'è qualcuno che è arrivato in ritardo tranquilli benissimo questo è un esempio di coupon faccio un passo avanti un'azienda che mi sta molto a cuore con cui ho lavorato e lavoro ancora che è la Refine quindi siamo in una azienda di piastrelle a Sassuolo allora qui siamo all'interno del magnete che è contattaci per avere un preventivo o una consulenza ok? commerciale ecco io per mia esperienza perché non mi piace parlare di cose che non faccio noi parleremo molto di B2B scusate quindi è una premessa che non ho fatto però è giusto dirlo un po' perché è quello che conosco meglio e che frequento ok in questo caso preventivo o una consulenza non si rivolge al privato si rivolge sempre a un architetto o a un rivenditore in questa pagina che cosa potete notare? allora io poi vi lascio il riferimento col sito questa pagina è una pagina d'atterraggio grass porcellanato quindi una pagina di contenuto tecnico a cui posso accedere attraverso un bel posizionamento SEO sulle parole quindi legate al contesto grass porcellanato e altro è una pagina dove ovviamente si forza molto il concetto del contattaci quindi c'è una bella call to action a destra che cerchiamo di evidenziare molto bene che poi porta alla pagina dove c'è un form ok? perché vi dico questo? perché la struttura del sito è fatta per avere punti di conversione no? vediamo benissimo vi chiedono i dati per avere un preventivo o una consulenza assolutamente quindi un sito che non ha punti di conversione è un sito che non può fare l'e-generation senza punti di conversione il sito è una semplice brochure di vendita è chiaro che un sito senza punti di conversione non mi permette di monitorare è anche vero che anche se non ti registri io so chi sei in che senso? attraverso l'IP tracking quindi abbiamo comunque dei dati per capire che un'azienda nostra potenziale cliente è venuta più volte sul sito anche se non si è registrata e questo è un altro ambito che andrebbe ovviamente approfondito però rimaniamo sul concetto che vado sul sito e mi devo registrare ecco attenzione un form molto profondo quello di Refine è un form che fa una bella profilazione quindi se metti insieme tutti questi campi ora qui vedete i campi obbligatori ma sotto ce ne sono altri se mettete insieme tutti questi campi evidentemente siamo delle persone di dei molti interessati allora nome, cognome, email i campi obbligatori professione in questo caso profilazione che riguarda ovviamente rivenditori piuttosto che architetti serie di interesse cioè ti chiedo perché mi stai contattando quale prodotto sotto ci sono altri campi che riguardano il numero di telefono l'età vedete che c'è ovviamente già il flag sulla privacy e sotto c'è un altro flag che è quello della newsletter ok quindi ci torneremo velocemente alla fine quando metto tanti campi posso ovviamente scoraggiare la registrazione più tempo ma quando metto tanti campi e qualcuno si registra vuol dire che c'è un interesse già abbastanza alto allora se non flag i tre tipi di privacy non riesci a mandare richiesta esatto esatto bisogna fregare domanda alla fine esatto poi mi distraggo anch'io scusate ecco ogni pagina nel sito di Refine è una piccola landing page l'abbiamo studiato un po' in questo modo il sito se tu arrivi all'interno di una collezione ho preferito fare degli screenshot e metterli tutti qui per non fare uscite rientrate dal powerpoint questa è una collezione quindi stiamo parlando sempre di piastrelle per maggiori informazioni subito a destra c'è nuovamente il form ok che replica quello dei contatti quindi in questo caso si dà molta spinta a questo concetto se provate a visualizzare il sito da mobile vedete come il form appaia subito dopo all'immagine immagine hero quella di ingresso e quindi c'è una fortissima attenzione questo è un sito che converte parecchio perché poi è stato ottimizzato nel corso degli anni l'ultimissimo di Refine poi cambio se no mi sto ovviamente annoiando sei un utente registrato all'Archi Club ok concetto di Archi Club club dei progettisti appunto con tutta una serie di magneti molto interessanti che vanno dagli eventi gratuiti che promuoviamo che vanno da servizi specifici quindi in questo caso la registrazione al cosiddetto Club Membership servizi dedicati ai progettisti ok cambio da Refine a sempre un settore legato alla casa perché? perché questa è un'azienda piccolissima un'azienda di 15 dipendenti compresi i tecnici esterni silenzio casa silenzio casa si occupa trovate sempre molto ben posizionata anche su Google di insonorizzare se i tuoi vicini sono rumorosi quindi si apre in questo caso il pop up forse un po' invasivo vuoi conoscere tutte le soluzioni chiave per l'isolamento acustico quindi un minimo di copy cioè in realtà molto banale e un form lead generation perché è lead generation non ti chiede solo l'email ma anche il telefono e la città sì voglio saperne di più quindi la call to action non è semplicemente registrati mamma mia che fantasia ma voglio saperne di più bene vado avanti con sempre un po' di esempi per carità non sono esempi perfetti sono semplicemente così spunti e stimoli questa è un'altra azienda che conosce anche Sara secondo me si la ricorda molto bene Sara Salverani perché ci abbiamo lavorato insieme comunque Tecnidraulica è un'azienda sempre piccola che si occupa di impianti di riscaldamento e non solo in home page quindi un bel magnete il check up gratuito della tua situazione energetica questo è proprio uno screenshot dell'home page migliorabile forse in questo caso il check up gratuito prevede la registrazione nome, provincia abitazione email eccetera in questo caso si fissa poi un appuntamento con un tecnico che farà la supervisione sia per privati sia per aziende perché hanno due target quindi un altro bel magnete il check up gratuito so che ogni tanto è un po' abusata questa parola la vedo spesso però anche questa è un'alternativa ok sempre nel settore dei serramenti e come strumento ovviamente google adwords questo è uno screenshot un po' vecchio come sapete è cambiato qualcosina richiedi preventivo preventivo serramenti.it quindi è una persona che ha proprio digitato questa chiave di ricerca per poi finire sulla classica pagina preventivatore step 1 step 2 step 3 quindi attraverso alcuni click guidati legno legno alluminio sono tutti i vari materiali delle finestre finiture eccetera accompagno il cliente per definire il suo preventivo gratuito e calcolare quindi il costo dei tuoi infissi altro elemento simile tubi per lo scarico wavin.it un'azienda multinazionale con sede anche in Italia quindi fanno tubi per i gabinetti per intenderci quindi non è che sia proprio l'argomento su cui si possa fare più storytelling in assoluto questa è una pagina molto interessante forse migliorabile forse migliorabile dal punto di vista dell'impatto quindi informazioni generali sul prodotto in alto a destra hai bisogno di aiuto contattami funziona abbastanza bene anche questo vedete la foto del commerciale in questo caso salto fase di nutrimento diciamo se clicco su hai bisogno di aiuto contattami si apre classico form molto semplice in realtà è l'invio di una mail quindi non sarebbe neanche tecnicamente una lead generation ma secondo me è un esempio interessante perché non è che dobbiamo inventarci chissà che cosa ok passo avanti uno degli ultimi è la classica registrazione per un servizio che ti aiuta a scegliere il prodotto in questo caso un selettore di pompe siamo pompe idrauliche per le acque reflue non l'azienda si chiama Sealand stiamo sempre parlando di aziende in questo caso di piccole e medie dimensioni quindi non multinazionali quindi una pagina del sito rimanda al pump selector dove ovviamente richiesta una registrazione dopo la registrazione si accede una parte del sito dove attraverso alcune domande tecniche si arriva a definire la pompa giusta per le tue condizioni ok ok bene bene sto andando veloce perché il tempo è sempre poco l'autocitazione ah beh bellissimo quindi landing page del sito di Len che conoscete molto bene questa è una landing page di un corso a mercato quindi che vendiamo richiede maggiori informazioni anche in questo caso oltre l'email il telefono per registrarsi e poi per venire successivamente contattati stiamo arrivando alla fine ecco questo è proprio l'esempio perfetto di squeeze page non di landing page ma di squeeze page una squeeze page non ha obiettivi di vendita è corta e ha l'unico obiettivo di prendere i dati tra l'altro non è un'azienda con cui collaboro ma un'azienda volendo anche una nostra concorrente ecco se vogliamo Archimedia Archimedia è una bellissima società è una proprio è una web agency si occupa proprio di inbound marketing e io ho scaricato da loro dei manuali quindi il classico magnete il classico pdf la guida in realtà di una trentina di pagine fatta molto bene non solo sull'inbound marketing quindi esempio in questo caso di magnete di contenuti bene ok quindi in sostanza questo magnete quanti possibili magneti ci sono e come posso realizzarlo benissimo ne abbiamo visti un po' in realtà possiamo raccogliere almeno 12 esempi di magneti perché poi dobbiamo realizzarli noi sostanzialmente un videocorso un webinar famose liste di tool su strumenti indispensabili per il tuo web le classiche checklist quindi un magnete abbastanza rapido il classico how to in formato pdf consulenze e coaching gratuite rapide abbiamo detto coupon biglietti e omaggio per eventi dopo c'è un caso che vedremo template vari membership prove gratuite nel caso ovviamente di un software plug in anche in questo caso software che richiedono email per i download quindi ci sono ovviamente magneti più facili da realizzare altri più complessi chiaro che se io regalo un biglietto a una fiera io potrei avere un costo quindi sto calcolando in qualche modo anche il costo di acquisizione del cliente devo capire se ci sono dei ROI dei ritorni adeguati facciamo a questo punto un passaggio per chiudere il concetto di magnete quindi il magnete deve essere intanto correlato alla tua offerta quindi se faccio un pdf e sono un ristoratore non farò un pdf su ad esempio la guida alla città ma farò un pdf legato ad esempio ricette di cucina abbiamo detto che un magnete deve essere intanto gratuito deve essere più specifico possibile deve toccare un problema sentito dal mio lead e deve essere abbastanza rapido se io offro un pdf di 200 pagine diventa veramente un libro io ho bisogno di dare informazioni il giusto vedo non vedo te le faccio toccare ma non ti do profondità perché poi ho bisogno di mutirti ulteriormente quindi se mi gioco tutto sul primo magnete che cosa ti dico dopo giusto bene allora altri esempi così rimaniamo molto molto sull'operativo lead generation con webinar ha funzionato bene ma non benissimo per l'en questo è sempre un caso nostro quindi target erano sia privati che aziende dipendeva lì dalla tipologia del corso abbiamo usato facebook ads quindi la lead generation avveniva con webinar come stiamo facendo sostanzialmente ora noi skype for business e poi email marketing il risultato quindi è stato ampliare un database di contatto su cui ancora stiamo lavorando in realtà quindi per veicolare altre offerte per vendere e-commerce per vendere quindi corsi online un altro caso non è diffusissimo ma io ho trovato molto interessante il concetto del magnete biglietto per la fiera in questo caso è un'azienda del campo metalmeccanico anche qui non grandissima che rispetto ai propri target tecnici progettisti ha deciso di fare una lead generation regalando un biglietto per una fiera di settore che a loro sarebbe costata alcune decine di euro in sostanza l'azienda aveva accesso ai biglietti a uno sconto molto forte quindi in realtà all'azienda costava x ma la percezione per chi riceveva questo magnete era notevolmente più alta quindi attraverso soprattutto l'advertising sono arrivati a alcune centinaia di contatti i biglietti non mi ricordo se erano 100 150 comunque sono stati dati via rapidamente e alcuni ovviamente sono venuti anche sullo stand per visitare l'azienda e quindi è stata una campagna soddisfacente ecco un altro elemento che volevo citare perché poi sembra tutto molto complicato no? ve lo vediamo subito dopo anche se il tempo è veramente tiratissimo adesso allora pensiamo anche che in azienda ci sono già tante liste di contatti perché se un'azienda è sul mercato da 30 anni lo vistiamo un po' tra le mail tra i biglietti da visita noi di contatti alcuni dormienti alcuni non più attivi alcuni mai contattati ce ne sono già quindi proviamo a razionalizzare in questo caso un'azienda di infissi che era sul mercato da 40 anni ma ne aveva già tanti di lead potenziali solo che non ci aveva mai fatto nulla in questo caso erano progettisti quindi abbiamo fatto una bella riqualificazione delle liste che erano già dentro senza nessun tipo di acquisizione usando uno strumento a costo quasi zero mail app se non il costo di apprendimento e facendo una serie di mail che ma ne abbiamo mandate una cinquantina con tassi di apertura veramente molto alti e ritorni di fatturato altissimi cioè questa attività su cui abbiamo investito veramente poco tempo ha portato a casa insomma diverse migliaia di euro è stata forse una delle campagne su cui ho avuto più soddisfazione devo dire perché veramente ha dato l'idea all'azienda che non fosse poi così complesso fare questo tipo di attività e quindi ci tenevo a dare anche questo spunto quindi attenzione noi abbiamo parlato molto di acquisizione però il tema l'altro tema grande è il nurturing coltivare il lead coltivare il lead all'interno del nostro funnel e quindi scaldarlo diciamo così cioè acquisire non basta devo capire in quale fase del processo decisionale il nostro lead cioè se il lead non ha percezione attiva del problema e ovviamente io lo posso creare dicendo che se non farà campagne di social media marketing continuerà magari a perdere quote clienti quindi aumentare quello che viene definito il pain il dolore del cliente quindi bisogna fare un po' di copywriting su questo la nostra preside è bravissima Sara Salvarani su questo insomma si è specializzata parecchio se io non creo si dice un po' nel copywriting mettere la testa del cliente sotto l'acqua no? si tengo la testa sotto l'acqua per un po' di tempo quando poi tu la tiri fuori hai bisogno di una boccata d'aria quindi io posso costruire amplificare il problema del cliente finché questo problema non è abbastanza amplificato non ho teso l'arco diciamo non posso scoccare la freccia quindi a volte noi pretendiamo di vendere troppo presto educare il cliente significa fargli capire perché ad esempio è importante fare social media marketing in un certo modo abbiamo tanti esempi di professionisti che educano il cliente una delle più brave è Veronica Gentili quando parla di come dovrebbe essere il suo potenziale cliente su Facebook e lei è bravissima con un post a volte ironico nel far capire come si deve lavorare come si vuole interfacciare lei con i clienti ecco qui andiamo forse nella parte più tecnica e i nuovi clienti vengono aggiornati o meglio informati attraverso un ciclo una sequenza di email io non è che scrivo tutte le volte tutti i giorni email diverse una volta che abbiamo scritto una sequenza di email questa sequenza di email deve essere automatizzata attraverso quello che chiamiamo autoresponder ok quindi automatizzare un ciclo di email due tre quattro mail significa risparmiare molto tempo avere una sequenza che poi può essere tarata a seconda dei risultati dei click ancora prima dei tassi di apertura significa fare un lavoro in cui creo un workflow maggior parte dei software lo fanno quindi l'opt-in welcome email poi arriva il famoso trenino di email di contenuto a cui poi posso agganciare una promozione online e-commerce oppure portandoli in un negozio fisico a cui agganciamo un ulteriore trenino di email quindi adesso lo sto ovviamente banalizzando perdonatemi perché c'è uno studio dietro e una certa complessità quindi l'autoresponder è quello strumento che automatizza l'invio dell'email ce ne sono tantissimi Mailchimp ha anche in questo caso conosco questo ma GetResponse o Aweber sono tutti software di email marketing alcuni gratuiti altri partono con iscrizioni ad esempio sui 15 euro 15 dollari mese come GetResponse se non ricordo male altri come Mailchimp invece fino a un certo numero di invii e dimensioni della lista sono gratuiti molto più complesso sicuramente Infusionsoft ActiveCampaign è un altro ecco io non è che li conosca benissimo perché poi ho qui il mio tecnico che mi aiuta io cerco di lavorare più sulla strategia e eventualmente sul copy sostanzialmente si ha una sorta di calendario dove vanno a essere inserite e programmate quindi la sequenza dell'email questo ad esempio è uno screenshot da GetResponse ecco concludendo concludendo io direi di tenermi proprio un paio di minuti qui vado velocissimo perché sono arrivato un po' lungo quali sono i canali più efficaci per fare l'e-generation bella domanda testiamo facciamo dei mix solo su questa slide che ho preso e ricopiato in maniera brutale ci sono decine di attività di lead generation dalle digitali alle tradizionali da quelle più push telemarketing pull inbound vedete qui ovviamente SEO website contenuti digitali eccetera quindi slide da guardarsi e approfondire ecco la sfida tra marketing e vendita è una sfida che è molto forte in questo momento perché sicuramente il marketing vuole offrire il numero più elevato di lead possibili a un costo più basso possibile il sales manager il venditore ha bisogno invece di lead più pronti possibile quindi scaldati dal marketing quindi c'è tra marketing e vendita quasi una competizione ovviamente che noi vogliamo in qualche modo ridurre sui campi del form su quanto sono caldi o non caldi i lead pronti all'acquisto chi li deve ricontrattare quali tempi dopo la risposta e come vedete da questa slide che ho preso dalla ricerca di mail app ovviamente i punti di vista possono essere diversi noi dobbiamo lavorare affinché i marketing e vendita siano il più possibile alleati nella lead generation eccoci qua bene l'ultima parte un po' tirata sorry per finire con qualche riflessione domanda visto che sono già le due meno dieci ci siete ancora? toc toc lasciate un po' fermata scusa Paolo sono andata ad aprire la porta no no prego prego tutti vivi 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 ecco no un tema è un tema molto importante per tanti consulenti riuscire ad arrivare a fornire poi dei contatti dei clienti caldi ridurre le telefonate a freddo facilitare la chiusura ridurre i cicli commerciali voi come lo vedete questo argomento c'è chi probabilmente in tanti già ci lavorate che esperienze avete allora Martina mi chiede qual è il primo step per un'azienda che non ha mai praticato lead generation ecco mi riaggancerei a proprio la riflessione che facevo con quel caso di un'azienda di porte e finestre un'azienda familiare in cui presente da tanti anni perché è un caso classico presente sul mercato da 40 anni ci siamo accorti che seppelliti da qualche parte persi nei cassetti o nelle email c'erano già dei contatti potenziali classico esempio quando andiamo a una fiera raccogliamo dei bietti da visita ci rimettiamo in tasca e poi ci discordiamo quindi spesso per fare lead generation potremo partire non da attività di acquisizioni complesse ma da razionalizzare quello che c'è già seconda esatto occorre costruire un database le liste le liste sono fondamentali senza liste database veramente molto difficile fare marketing potremo partire da campagne a basso budget su facebook ok questa è un'altra possibilità cerchiamo di lavorare anche se abbiamo il budget sul sito web cerchiamo intanto di stabilire se un sito web abbia i punti di conversione adatti sufficienti alta riflessione ok ti ho risposto Martina Lara dice occorre costruire un database assolutamente costruirlo richiede tempo il database poi va fatta manutenzione non abbiamo parlato della lead segmentation quindi quando io poi ho costruito il form sul sito Refine avevo già creato una segmentazione è un rivenditore un progettista quindi quando la persona si registra automaticamente va a cadere nel database giusto quindi anche quello è una sorta di automazione collegamento tra sito CRM email marketing bene altre domande riflessioni allora c'è Lava che sta scrivendo un messaggio potrebbe essere una potenziale domanda sì allora il nostro ambito noi distribuiamo tra lead e prospect sì ci sono tantissime modalità ecco diciamo che un contatto un iscritto un lead potrebbe diventare un prospect poi un hot prospect un prospect più caldo fino a diventare cliente quindi diciamo poi ho visto però anche alcune scuole che indicano il primo livello come prospect ok quindi ci sono diverse interpretazioni che potete trovare anche sui diversi CRM in realtà noi indichiamo lead come diciamo il livello di imbuto più alto e prospect come un livello dell'imbuto più basso ok però quando si dice fare prospecting nel gergo anche di alcuni commerciali significa no cercare delle prospettive quindi dei potenziali clienti quindi si usa anche molto prospect e capita sempre più spesso che i stessi clienti ci venga segnalati come nuovi lead da gestire ecco qui forse non capisco io bene la domanda e capita sempre più spesso che i stessi clienti cioè che quindi un cliente attuale venga segnalato come lead quando in realtà non capisco corretto un comportamento del genere sì sì no sta ancora scrivendo Lara sta ancora scrivendo vediamo un po' gli altri ci sono ancora non abbiamo un sistema centralizzato di CRM ecco mi verrebbe proprio da dire poi per carità non conoscendo la situazione che CRM serve proprio per non perdere dell'opportunità e il CRM serve proprio per agire in maniera molto rapida perché vanno ricontattati in maniera più rapida possibile molti lead ci vengono inviati dalla casa madre ci scrive Lara quindi c'è un sistema appunto centralizzato che fa la prima fase l'abbiamo fatto anche noi in tante situazioni sicuramente nelle piastrelle il sito dell'azienda esempio Refine serviva per raccogliere in prima battuta i lead che vengono poi girati nelle varie zone il cosiddetto routing reindirizzamento del lead dove molti lead ci vengono inviati ok spesso la casa madre ci rimanda sotto forma di lead dei nostri clienti scritto così sembra forse una mancanza di coordinamento di passaggio informativo potrebbe anche essere come dici tu un tentativo di scaldare un cliente perché alcuni clienti possono essere in una fase dormiente della relazione ok alcuni clienti potrebbero essere anche in una fase magari di abbandono e quindi vanno mantenuti in questo caso nutriti nel senso di non perdiamoli quindi si è un tentativo di lead nurturing in questo caso sul cliente in fase di abbandono o poco attivo mi verrebbe da dire anche perché l'invio di sequenze di mail anche su clienti che hanno già acquistato quindi si fidano già di noi è un modo molto rapido per riattivarlo quando si fanno campagne su e-commerce io non me ne occupo tantissimo ma l'ho visto anche su alcuni clienti le campagne di mail marketing spesso generano delle ricadute abbastanza importanti su e-commerce quindi il risveglio dei clienti lo sappiamo ad esempio lo fa Amazon molto bene con noi bene ok quindi Lara lavora nell'automotive Lara possiamo chiederti esattamente in che ambito ah in BMW ah è vero è vero sì 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 ok quindi insomma dall'esterno uno immagina che ci sia un'organizzazione non so tedesca tra virgolette in questo caso o comunque esatto strutturata da multinazionale certo ci sono altre riflessioni vi piace come argomento volete approfondirlo stanno passando da leadbook a salesforce dice Lara a salesforce come software di CRM sì salesforce è l'azienda leader cioè era è ancora una delle aziende leader sul CRM direi che quasi l'ha inventato salesforce.com se lo volete cercare ok adesso ci sono c'è qualcun altro che sta scrivendo vediamo un attimo se è una domanda che abbiamo gli ultimi minuti certo volentieri adesso chiedevano cinque domande così in botta no scherzo beh vuol dire che c'è interesse mi fa piacere vediamo un attimo c'è qualcuno che sta scrivendo sì 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 in più ecco infatti una fonte per approfondire io ultimamente ho comprato un libro che di un autore che conosco ma anche di una casa che è la Flaccovio che si chiama proprio Lead Generation lo sto cercando anch'io in questo momento allora è uscito da poco l'autore è Emanuele Chiericato è della webbook Emanuele Chiericato sì sì gliel'ho scritto Lead Generation sì scusate perché sto guardando in realtà no no tranquillo l'ho scritto io in chat ho visto ho visto volevo chiedere come funziona nel campo della ristorazione molto bene molto interessante questa domanda sì allora in questo caso possiamo usare degli strumenti come dei coupon ecco io vedo ad esempio fare degli errori no se io voglio mettere voglio portare gente a pausa pranzo nel mio ristorante faccio un esempio magari banale no ecco noi l'abbiamo fatto ad esempio per i parrucchieri per portare le persone a fare le manichure o altri servizi collaborando con alcune associazioni cioè un ristoratore se vuole ad esempio interessato alla pausa pranzo può fare delle offerte molto semplici con un coupon per la pausa pranzo quindi immagino un'offerta uno sconto quindi ma niente un coupon è solo che la campagna facebook non la posso fare alle 5 di sera no la dovrò fare quando a mezzogiorno a mezzogiorno e mezza su un target geolocalizzato per portare nuove persone per me alla pausa pranzo quindi io immagino anche attività abbastanza operative in questo caso la lead generation per un ristoratore è portare le persone al ristorante ok non ci immaginiamo di creare una serie di pdf o contenuti di chissà quale tipo ci siete? io farei un qualcosa di molto operativo per portare le persone al ristorante così come abbiamo fatto ok anche verso le 11 cioè mi sto organizzando per la pausa pranzo e mi arriva ugualmente se ho banalissimo un ristoratore qualsiasi persona dovrebbe raccogliere per lo meno le e-mail delle persone cioè quante persone nuove arrivano in un ristorante se ne vanno e non lasciano nessun tipo di contatto ci sono secondo me veramente delle aree di lavoro quindi iniziare a mandare delle e-mail al nostro potenziale contatto che è passato una sola volta ricordiamo con un e-mail che ci siamo ricordiamo che c'è un'offerta oppure nutriamo con dei nuovi contenuti quindi veramente veramente si può fare ecco ok e ci sono delle belle potenzialità perfetto eh si io poi personalmente con ristoratori mi sembra di non averci mai lavorato ecco direi di no però però farei qualcosa del genere per provare la D-Generation lavorando direi su Facebook Facebook Ads direi partirei con quello ok perfetto adesso vediamo se c'è un'altra domanda che ah ok perfetto no no ah ecco visto che la cooperativa per cui lavoro esiste di un giornale cartaceo molto bene chiede come possono integrarsi le due fasi ma guarda è una bella domanda cioè giornale giornale cartaceo di che tipo però c'è un quotidiano o un settimanale un mensile un mensile di approfondimento ah in questo caso in questo caso il magnete potrebbe essere proprio la prova del prodotto quindi inviare a casa costi permettendo una copia gratuita con annesso un coupon per cioè questo è ovviamente ti sto dicendo una strategia che in realtà è vecchia come il mondo e sicuramente l'avete già provata c'è l'area che ti chiede anche per i ristoranti che si mettono su Groupon hanno diritto alle mail di chi compra lo sconto ma guarda io su Groupon ho avuto delle battaglie di riscontri culturali io quando vado nell'associazione parlo sia a vedo molti acconciatori con la cna oppure centri estetici va benissimo Coupon io però dico che se tu lavori su Groupon stiamo attenti intanto che con la percentuale che ti chiede Groupon e la percentuale di sconto che hai tu praticamente hai marginalità zero o negativa ah ma però intanto io porto delle persone sì ma che tipo di persone persone che intanto non logica mordi e fuggi e poi soprattutto Groupon è comunque un intermediario tu non stai facendo branding tu stai sei veicolato da qualcun altro che domani potrebbe anche chiudere o cambiare continuamente quindi è chiaro che dal mio punto di vista un consumente di marketing io va bene mi vanno bene le intermediazioni però io punto a farti creare una tua modalità di lead generation e soprattutto un tuo brand se vai su Groupon non hai né uno né l'altro rischiando di vendere tanto ma a margini negativi ecco questo è in estrema sintesi quindi io non sono proprio un super quelli di Groupon mi odieranno so che funziona però alla lunga no guarda Paolo se se abbiamo finito con con le domande lo chiedo ai ragazzi se ne hanno ancora o se abbiamo finito se no vi passo un attimo Sara che volevo ok ah con Paolo ok ok no no niente allora no dopo vi sentite voi su Skype per cose interne sì 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 con Sara certo ditemi ditemi ragazze ah una domanda per Giulia scrivete sì i biglietti per sabato sono terminati ah ecco avevo avevo visto anch'io una parola di overbooking da qualche parte in qualche mail no ragazzi non credo che sia possibile perché Sara dice che nessuno nessuno in realtà ha preso posti per sabato eh sabato forse venerdì c'è terminato però dice che c'è terminato niente adesso dobbiamo un attimo indaghiamo ah verificate sì verifichiamo un attimo e no Sara ci sta guardando adesso comunque eh vi sappiamo dire vi sappiamo dire più presto vi sappiamo dire tra poco vi scrivo vi scrivo una mail o vi scrivo su Facebook potrebbe esserci qualche problema interno con la creazione dei biglietti con Eventbrite sapete che ci sono diverse opzioni magari successo ah ok niente no ehm ha capito qual è il problema adesso sistema e se li controllate tra poco comunque ehm trovate trovate i posti e Marta se vuoi sì vi rimetto comunque il link ma lo trovate sulla pagina del proprio sulla pagina di scuola di blog su Facebook l'avevo messo ieri comunque adesso mettiamo un attimo a posto tutto e se ci controllate tra tra un'oretta così è tutto a posto tranquilli i posti ci sono ci sono per voi tranquilli ok Paolo sono ti abbiamo trattenuto anche tanto sono le due quasi dieci no va benissimo abbiamo iniziato un po' un po' bene allora grazie a tutti di nuovo spero che l'argomento vi abbia stimolato in qualche modo ci siano state nuove idee per i vostri magneti e la vostra regeneration ci vediamo ovviamente prestissimo grazie a tutti ci vediamo presto troppo presto sabato per gli awards grazie buon project work grazie mille Paolo ciao a tutti buona giornata buon lavoro ciao a tutti